Mi fa piacere che il sindaco e qualche altro più o meno autorevole personaggio della maggioranza si preoccupi il primo di marzo, peccato che non è il primo di aprile perché altrimenti potrebbe essere un pesce di aprile, di verificare se ci sono i termini per impugnare al TAR il piano di riordino ospedaliero e venga illuminato dalla ipotesi di segnalare alla Corte dei Conti e alla Procura le inadempienze, i ritardi, le omissioni che ci sono state per quanto riguarda il percorso della costruzione e dell'ampliamento dell'ospedale e tutto quello che ruota intorno. Meglio tardi che mai potremmo dire e quindi ci auguriamo che i tempi biblici che caratterizzano alcune formazioni o alcuni che si impegnano più che altro a parlare male di partiti o di singoli invece di studiare le carte dal punto di vista tecnico, amministrativo e giudiziario possano effettivamente illuminarsi e dare una risposta ai cittadini. Mi ha fatto piacere apprendere che in fondo dopo un lungo percorso, una grande battaglia finalizzata a perdere tempo per la realizzazione della fogna sulla nostra costa, alla fine questa si farà nello stesso posto che l'acquedotto e non il sottoscritto aveva individuato e che iniziative, alcune anche abbastanza improbabili e inquietanti avevano rischiato di far perdere i soldi e di avviare un lungo percorso di risarcimento danni da parte della ditta che si era giudicata i lavori. La vicenda politica ancora una volta non mi fa capire di fronte a che cosa noi ci troviamo. Il sindaco continua a minacciare e siamo tutti costernati per queste cose. Io penso che le sue dimissioni, diciamo sempre annunciate, minacciate ma mai date, lasciano veramente il popolo ostunese nella più grande tristezza e confusione. Io vorrei dare un contributo, utilizzando l'ABC della politica, si faccia un'amministrazione politica non tecnica camuffata perché questa che c'è non è tecnica perché il PD ha sempre partecipato a tutte le riunioni ufficiali e non ufficiali di bosco e di sottobosco della maggioranza. Si faccia un'amministrazione normale, il sindaco azzeri la giunta, dopodiché chiede al PD, area popolare, se intendono fare una giunta politica per oggi e per domani, alleandosi con tutta la destra e quindi dopodiché distribuiscano le responsabilità così come si fa, cercando di mettere l'uomo giusto al posto giusto e dando le varie rappresentanze ai partiti, due assessori al PD, due ad area popolare, due al gruppo dei cor. E quindi come si vede è facilissimo fare l'amministrazione, la giunta e quindi lo faccio, senza bisogno di continuare in questa vicenda che sa del ridicolo, dell'approssimazione, della incapacità di essere guida di una città come Ostuni. Per il resto, apprendo che si è costituito anche Ostuni il gruppo dei democratici e progressisti, anche questa è una nota di chiarezza, faccio i migliori auguri all'amico e compagno Giuseppe Tagliente, a quanti hanno fatto questa scelta, probabilmente questo servirà anche per avere un'altra parte, oltre a quella dell'area socialista e delle liste civiche, che possa svolgere un ruolo di opposizione così come la legge e la politica prevede e non di coloro i quali, comunque vadano le elezioni, hanno sempre vinto.